La Commissione Nazionale Antimafia, preseduta da Rosi Bindi, a Palermo per affrontare le problematiche relative all'uso dei beni confiscati alla mafia, sta ascoltando i vertici della magistratura del distretto. Presenti all'incontro il procuratore generale Roberto Scarpinato, il procuratore Francesco Messineo, gli aggiunti e il PM Nino Di Matteo. Messineo, a margine dell'audizione, ha dichiarato Il programma per la lotta alla mafia annunciato dal Premier Renzi mi pare condivisibile e serio e, se realizzato, far avanzare l'azione di contrasto a Cosa Nostra. Gli incontri proseguiranno domani con l'audizione dell'antimafia regionale. La visita terminerà con una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni. La visita terminerà con una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni.